Ciao, sono Chrissy McKin di Naio Nails. In questo video vi mostrerò come creare una bellissima unghia con dell'alluminio increspato. Ok, su quest'unghia ho già una tip trasparente e l'unghia è stata già preparata e il primer è già stato applicato. Se volete, potete andare a vedere il video su come preparare l'unghia e applicare il primer qui su questo canale. Adesso però andiamo a fare un'unghia in alluminio increspato con il gel. Andiamo ad usare il gel da ricostruzione. Questo design non solo è super facile ma anche super bello. Vi prometto che chiunque sarebbe in grado di farla. Andate a prelevare un po' di prodotto con il vostro pennello per gel e con un movimento circolare andate ad applicarlo sull'unghia. Per fare questo design avete bisogno di una buona copertura di gel. Poi andate a prendere un pezzettino da una busta di plastica e andate ad accartocciarlo. Dovete accartocciarlo per bene. E quando siete soddisfatti delle grinze che avete creato, potete andarlo ad applicare direttamente sull'unghia. Potete usare uno spingicuticole per premerlo bene sui lati e assicurarvi che si infili bene nelle pieghe. E anche che non stia toccando le cuticole. Poi andiamo a catalizzare nella lampada UV per due minuti. Ora che è asciutto andiamo a rimuovere la plastica. Guardate qua, è davvero incredibile. Poi con delle tronchesine per cuticole andiamo a tagliare attorno ai bordi e andiamo a togliere tutto ciò che sporge troppo. Ora andiamo a prendere l'alluminio liquido e lo andiamo ad applicare su tutta l'unghia. Andate bene in tutti gli angoli e le fessure. Questo andrà a risaltare tutte le faccettature dell'unghia. Ora vado a pulire i residui di alluminio liquido dal dito usando dell'acetone. Ora volendo potreste anche lasciarla così com'è, perché è già bella così. Ma noi adesso vogliamo renderla più indossabile. Andiamo quindi ad usare di nuovo il gel ricostruente per andare ad incapsulare l'intero design. Dovete lasciare che il gel per ricostruzione si vada a depositare in tutte le rientranze. Dovete prendere il vostro tempo, dovete essere pazienti e lasciare che il gel faccia il suo lavoro. Lasciate che si depositi direttamente sopra l'unghia e lasciate che scorra in tutti gli spazi. Ora vado a girare l'unghia al contrario. Così il prodotto verrà tratto verso il basso grazie alla forza di gravità. Questo aiutrà anche a far sì che il gel si assesti. Ora rigiratela e andate a mettere nella lampada per due minuti. Ora che è tutto bello asciutto, vado a rimuovere lo strato di dispersione. Poi andiamo a limare per rendere il tutto più nitido. Facciamo prima i lati dell'unghia. Poi la zona cuticole. Non dimenticatevi che quello che sto limando è gel. Non dovete limarlo in maniera troppo aggressiva perché è abbastanza morbido e facile da limare. Ora che sono soddisfatta della forma dell'unghia vado a passare il buffer. Come potete vedere questo design è molto facile da fare ma anche molto bello e veramente d'effetto. Chiunque può farlo. Pulite l'unghia e poi andiamo a mettere il gel sigillante Mega Gloss per andare a sigillare il design ma anche far sì che tutto il bagliore e le increspature risaltino. Poi andate a mettere la mano nella lampada LED per un minuto. E andiamo ad ultimare il design con dell'olio per cuticole. Amo quest'unghia, ne voglio un set intero. Magari la prossima volta che mi vedete in video avrò le unghie così. Ed ecco a voi un'unghia con l'alluminio increspato. Sa domani! Quando passare il piano! Chekno di chiunque! Sa domani l'ultima! Sa domani abbiamo news rumore. Ecco a chiunque!